Allora, abbiamo organizzato questa mattinata con ricercatori dell'Associazione Intelligenza Artificiale con cui collaboriamo e abbiamo un rapporto particolare, di socio particolare con l'associazione, come consorzio, per parlare di un problema che sta emergendo agli occhi di tutti. Il problema è che Internet sta diventando veramente pervadente con una serie di tecnologie e questo ci consente di essere sempre connessi. Peccato che essere sempre connessi non voglia dire soltanto qualcosa di positivo, ma voglia dire anche che qualcuno ci interrompe continuamente con più strumenti. Abbiamo il telefono, abbiamo lo Skype, abbiamo Facebook, abbiamo LinkedIn, abbiamo la Posta, abbiamo tantissimi strumenti che continuamente interagiscono con noi. Alcuni in forma automatica, altri attraverso persone che ci chiamano e ci interrompono. Quindi è una forma di comunicazione allargata, ma è anche una forma che disturba il lavoro in qualche modo. Alcuni di questi fenomeni sono sotto gli occhi di tutti. Io prenderò ad esempio la Posta, perché è quello forse più relatante, però tenete conto che non stiamo parlando soltanto della Posta. Parliamo di una serie di strumenti. Allora, questa è la metafora della giornata di oggi. Si capisce abbastanza bene quello che succede. Stiamo affogando in un mare di comunicazione, in particolare di post elettronico. C'è una stima da parte di un'associazione italiana che dice che in Italia corrono circa 940 milioni di mail al giorno. A mio avviso è quasi sicuramente una sottostima, perché non possono stimare quello che succede dentro le aziende. Queste sono le mail che girano su internet, ma sono probabilmente solo una piccola parte delle mail che girano veramente. Ci sono alcune aziende che stanno evidenziando questo fenomeno e che si stanno unendo per combattere questo fenomeno da un punto di vista di stress. Maestro, Alton, la Ferrari, la Volkswagen, la BMW, queste sono aziende che stanno cominciando a dire che il numero delle mail deve essere ridotto, non si possono mandare più di tante mail al giorno, non si possono mandare mail a più di tanti utenti contemporaneamente, non si possono mandare mail dopo l'orario di lavoro e così via. Perché si stanno accorgendo che in realtà questo proliferare di comunicazione incontrollata non porta a un valore, ma porta a un'inefficienza nel sistema. E poi c'è anche qualcuno che sta cominciando a capire che spostare un bit in realtà costa, costa in termini di energia. Poi Fabrizio Riguzzi vi spiegherà anche qual è la teoria che ci sta sotto, ma è che noi inquiniamo. Ora qui c'è un paragone, questa è una asserzione dell'Agenzia per l'Ambiente francese che dice che per ogni mega scambiato noi produciamo circa 19 grammi di CO2. Il fatto di parlare di CO2 equivalente non è necessariamente vero, sicuramente ci sono anche forme di energia meno inquinanti di quelle che emettono CO2, il solare, quello che volete, però secondo me poi è indicativo. Voi dovete tenere conto del fatto che per tenere in piedi i server, per lo storage che serve per far passare le mail, c'è veramente bisogno di tanta energia elettrica, perché poi quando mandate una mail voi non sapete da dove passa, ma transita da N server prima di arrivare alla vostra scrivania. Quando arriva lì magari voi la magazzinate sul PC vostro o forse anche su un server, ecco vi potete immaginare quello che c'è. Io ho calcolato levando tutto quello che è spam, quindi ragionando soltanto sulle mail che arrivano da internet, vanno su internet e quelle che girano all'interno dell'azienda, però le mail chiamiamole buone, è un ufemismo, che noi produciamo 65 tonnellate di CO2 al mese. Ed è una cifra abbastanza impressionante. Quindi anche da un punto di vista di inquinamento noi stiamo facendo del male. Inquinamento lo dobbiamo considerare da due punti di vista. Uno, quello dell'emissione del CO2, quindi l'impatto sull'ambiente, l'altro in termini di stress, cioè quello che succede in termini di disturbo sulle persone. Io ho cercato di citare alcuni comportamenti che giudico devianti e che stiamo adottando un po' tutti quanti, ma che dovremo cercare di combattere. Allora, in primo luogo la mail è diventata un modo per liberarsi dai problemi. Come non lo sapevi? Te lo avevo detto perché te lo avevo scritto, poi magari stava scritto nell'ottava pagina di una mail annidata dentro un'altra, però io l'ho scritto, quindi sono a posto, mi sono liberato del problema, ma non funziona mia così. Poi il problema rimane, al di là del fatto che l'abbia scritto a qualcuno. Non so a chi rivolgermi e mando una mail a un sacco di gente. E anche questo è estremamente disturbante, anche perché magari ce n'è uno che effettivamente era il destinatario di quella cosa. Probabilmente non dovrebbe essere nemmeno una persona, dovrebbe essere una casella di funzione, perché poi se quello non c'è perché è andato in bagno, ha vinto la lotteria oppure è in ferie, quel processo rimane incastrato. Allego un documento pesante e lo mando a tutto il gruppo di lavoro. E questo significa che invece di avere un documento immagazzinato da qualche parte, ho quel documento e viene replicato da n parti. allego, rispondo a tutti grazie, oppure non è colpa mia. E questo è un modo per farsi vedere, no? Dice guarda ci sono anch'io, peccato che sia veramente deleterio. Mando una mail e poi ti telefono per dirti guarda hai visto che ti ho mandato una mail? mando una mail e mi aspetto una risposta entro dieci minuti. La mail era uno strumento etico, era uno strumento fatto per colloquiare fra persone che avevano diverse cose da dirsi e invece di mandare carta ti mandavo una mail. E rispetto alla carta sicuramente è uno strumento meno inquinante. Qualcuno tempo fa mi ha detto, dice ma ti figuri se la gente facesse con la carta quello che fa con le mail. Sì, il problema è l'abuso, non l'uso, nel senso che nessuno si metterebbe a fare con la carta quello che oggi si permette di fare con le mail, perché tutti pensano che la mail non costi niente. È chiaro che non dobbiamo mandare carta, ma è altrettanto chiaro che anche la mail sta diventando un strumento inquinante. Perché ne abusiamo? Mando un foglio Excel a tanta gente e poi metto insieme i fogli di ritorno ed è un lavoro diabolico, fatemi dire perché non funziona. Chiedo commenti a n persone di cui tutti dovrebbero vedere il ritorno e poi commentare, eccetera. Quindi lo sto usando come una chat, lo sto usando al posto di un'applicazione, lo sto usando come un social network, invece di usare il social network, uso le mail. Faccio le mail annidate o le risposte delle risposte delle risposte e per capire di che cosa stiamo parlando devo cominciare dal fondo e leggere tutta quanta la storia. Metto dei disegni dentro le mail che sono pesanti, comprensibili solo agli uomini, eccetera. Probabilmente non sono nemmeno esaustivi questi comportamenti qui, però fatemi dire sono quelli che trovo io. Poi se ne trovate degli altri me lo dite e magari possiamo provare ad affrontare il discorso. Allora fatemi fare un salto un attimo a ragionare su che cos'è il web e dove sta andando. Perché mi servirà dopo per cercare di capire che cosa possiamo fare e che strumenti abbiamo per cercare di migliorare questa situazione. Allora, noi siamo partiti dal web come, e l'abbiamo chiamato web 1.0, la prima versione, dove fondamentalmente ci scambiavamo dei documenti. Guardate, il discorso del documento è molto allargato, nel senso, se pensiamo all'onbanking, l'onbanking scambia documenti. Semplicemente io ti chiedo un documento con dei parametri che magari è l'estratto conto o i movimenti da una certa data a una certa data, il server cosa fa? Organizza, attingendo al database, un documento, lo formatta in un certo modo e poi me lo fa vedere. Quindi stiamo parlando di documenti. Il primo grande salto da questa, che è comunque un'innovazione enorme perché permette a basso costo di pubblicare informazioni accedibili a tutti, io rimango ancora stupito del fatto che siamo riusciti a mettere in piedi degli standard che fanno sì che la gente colloqui dal Giappone all'America, Pisa-Livorno, che è più complicato di far colloquiare il Giappone. Cioè noi abbiamo inventato un linguaggio che è l'HTML e poi ci siamo messi d'accordo tutti quanti che quel linguaggio vale. E non è un problema tecnologico questo qui, è un problema politico, organizzativo, sono struttura sorpreso che funzioni. Quindi quella è stata un'innovazione sicuramente potentissima. Però quando siamo saltati al Web 2, abbiamo fatto un'innovazione altrettanto importante, è un altro gradino grosso, perché abbiamo separato la forma dal contenuto. Ora lì c'è un video, io ve ne darò i riferimenti, che è molto simpatico e che fa capire che cos'è il Web 2.0 con molta semplicità. Ora lasciamolo perdere, magari lo metteremo fra le note in maniera tale che lo possiate vedere voi, perché è molto semplice e molto esplicativo. Ma fondamentalmente noi stiamo scrivendo le pagine non più in HTML, ma stiamo usando un linguaggio dove mettiamo un'informazione e accanto specifichiamo come deve essere formattata quel tipo di informazione. Questo fa sì, questo abilita una serie di innovazioni molto grosse che permettono alla gente di scrivere sui server degli altri, per esempio. E quindi abilita il discorso dei social network, abilita YouTube, abilita tutta una serie di Wikipedia, pensate a questo, tutta un'altra serie di evoluzioni, dove io riesco a scrivere con semplicità dell'informazione. E quell'informazione in realtà può essere letta da persone, ma in qualche modo è compresa anche dai programmi, perché ho scritto che questo è un titolo, non ho scritto più che quello è qualcosa che va formattato in grassetto. Magari poi da qualche parte scriverò che tutti i titoli vanno formattati in grassetto. Ho scritto che quello è l'indirizzo di una persona e poi da qualche parte scrivo che l'indirizzo lo voglio trattare in un certo modo. Ma se scrivo che quello è l'indirizzo di una persona, quella è un'informazione che può essere trattata come siamo abituati a trattare le informazioni dei database, per esempio. Quindi ci può essere un programma, è la legge. Questa è l'evoluzione grosso. L'evoluzione successiva in cui siamo in questo momento, dentro questa evoluzione qui, è quella del Web3. Il Web3 è qualcosa di più nebuloso, nel senso che ce ne sono un sacco di definizioni. Tim Berners-Lee, che è il creatore del Web, nel 2000 tirò fuori un articolo che uscì su Scientific American che descriveva il Semantic Web. Il Semantic Web è qualcosa che gira intorno a questa cosa qua. Dove fondamentalmente lui diceva io devo scrivere le informazioni in modo tale che siano comprensibili agli uomini, ma siano comprensibili anche alle macchine. E che, in modo tale che sia possibile per una macchina farci dei ragionamenti sopra. L'esempio che faceva è, ho la mamma anziana che ha bisogno di fare un esame, io dico alla macchina, ho la mamma anziana che ha bisogno di fare questo esame e lui mi trova automaticamente dove sono i centri meno costosi, più vicini a casa mia, dove io posso portare la mamma e prende appuntamento per fare questa cosa. Quindi un discorso anche di agente intelligente in qualche modo. A mio avviso la designazione del Web3 è un po' diversa, è fatta di due facce, diciamo. Siccome l'obiettivo è quello che l'informazione deve essere comprensibile agli uomini e alle macchine, io per raggiungere questo obiettivo posso fare in due modi. O scrivo dell'informazione strutturata in una forma standardizzata e comprensibile, e qui ho fatto l'esempio del Financial Repontontology, che è un'evoluzione di un formato che si chiama SBRL, abbiamo usato anche noi per pubblicare i bilanci in passato, e fa sì che ci sia un'ontologia, una rappresentazione, una standardizzazione di certi concetti attraverso i quali io posso leggere poi quelle informazioni anche con un programma banale. Anche Excel legge questa roba qui e la formatta in un modo tale che poi sia lavorabile. Oppure io continuo a scrivere informazioni in forma non strutturata, ma ho delle applicazioni talmente furbe, talmente intelligenti, oggi si chiamano smart, che riescono a comprendere quel testo, quindi riescono a non soltanto a individuare le parole, il testo eccetera, ma in qualche modo ad analizzarlo, in qualche modo ad estrarre informazioni, in qualche modo a ragionarci. Roberto Basili poi vi farà vedere qualcosa su questa cosa. Allora, esiste un enorme movimento in corso sul discorso degli open data, soprattutto nella pubblica amministrazione, perché gli americani da alcuni anni a questa parte hanno lanciato uno slogan che dice che le informazioni pubblicate dalla pubblica amministrazione devono essere comprensibili, devono essere open, devono essere trattabili. Quindi c'è una differenza abissale fra un PDF che è la scansione di un documento e lo stesso PDF, lo stesso formato che però all'interno contiene le informazioni. Qui più andiamo verso la strada di pubblicare le informazioni attraverso delle standardizzazioni del tipo XML e cose di questo genere qui, più andiamo verso una strada dove le applicazioni possono interagire. Pensate cosa può voler dire questo per far evolvere il nostro home banking. Noi oggi sull'home banking pubblicamo gli estratti conto, pubblicamo le ricevute, pubblicamo queste informazioni qui. Se cominciamo a pubblicare informazioni secondo il Financial Report Ontology, per esempio, noi possiamo pensare che l'estratto conto non sia più soltanto qualcosa e lo leggo io, ma è qualcosa e posso darti un'applicazione o posso trovare un'applicazione scritta da terzi che lo può trattare. Questo vuol dire chiedere poi, per esempio, quando è che ho fatto un determinato pagamento su un negozio, oppure quanto speso di benzina negli ultimi tre mesi, oppure quanto spendo per l'affitto o per il condominio. Quindi diventa un documento vivo, diventa un database, diventa qualcosa che poi posso pensare di interrogare. Nello stesso modo posso pensare di costruire applicazioni che usino le informazioni che metto da qualche parte per fare poi dei processi. Per esempio posso mettere dentro la fattura tutti gli estremi del pagamento, tutte queste cose qui, e automaticamente portare la fattura sull'home banking e trovarmi un bonifico preimpostato per pagarla. Quindi diventano documenti vivi. Allora, perché ho detto questo? Perché noi abbiamo già una serie di strumenti dentro l'azienda, alternativi, che possiamo usare al posto delle mail. Nel seguito vi faremo vedere con gli interventi dell'associazione che cosa sta per venire fuori, oltre a quello che abbiamo già. Allora, mando una mail per sapere come funziona qualcosa. No, devo cercare di usare i motori che abbiamo all'interno di ricerca, abbiamo anche un motore di query answering che interroga la normativa, dove se gli si fa le domande la normativa risponde. Ora ha smesso di funzionare, ma questo è un dettaglio, ci stiamo lavorando e io spero che nei prossimi giorni sia a posto di nuovo. Abbiamo il wiki semantico, di cui vi farò vedere un piccolo esempio adesso, che è uno strumento molto potente, ma è uno strumento del tipo devo organizzare le informazioni io. Vedrete però che è molto semplice organizzare le informazioni. Quindi, quei due esempi di prima, per esempio, sono i due esempi di io che strutturo l'informazione o io che ho degli strumenti che riescono a frugare dentro le informazioni e a tirare fuori il significato. Ora torno indietro e vi faccio vedere un esempio. Allegati pesanti. Allora, in generale dovrei evitare di mettere gli allegati pesanti dentro le mail, dovrei pubblicare gli allegati da qualche parte, per esempio su un team site o sugli strumenti nuovi che stanno per venire fuori con il SharePoint 2013 che stiamo acquisendo e puntare dalla mail a quei documenti. Questo è un banale modo per risparmiare. Se ho necessità di risposte immediate, è meglio se telefono, se chatto con link, se vado dalla persona perché magari c'è nella stanza accanto. Perché la mail, nessuno dice che alla mail bisogna rispondere subito. La mail è uno strumento asincrono, è uno strumento fatto per pensare. Quando Newton e Leibniz si scambiavano le mail, quelle cartacee, passavano dei mesi prima che uno rispondesse a quell'altro. E c'aveva però quello il tempo di sapere cosa rispondeva. Ora invece conta l'immediatezza. Magari ti rispondo una cazzata, ma ti rispondo subito. Ma non funziona così. La uso come un'applicazione. Beh, diciamo, io ho un modo di fare anche delle applicazioni semplici usando SharePoint. Cioè, se io pubblico una lista dentro SharePoint, quello è già un modo per evitare di far circolare mail avanti e indietro. Ora ve lo farò vedere questo. Allora, fatemi far vedere solo un cenno sul discorso del wiki. Ecco. Allora, che cos'è il wiki semantico? Il wiki semantico è lo stesso strumento che viene usato per fare wikipedia, il wiki, con un'estensione in più. Quindi, che cosa posso fare qua dentro? Per esempio, posso fare una pagina, qui ne ho fatta una io, che si chiama Berlino, all'interno della quale vedete che ci sono scritte delle cose assolutamente comprensibili da tutti. Ma, se io vado a vedere il sorgente di questa pagina, vedete che c'è anche delle informazioni scritte in questo modo. Superficie 2.2.892 km e popolazione 2.2.4.429.847. Quando vedo la pagina, vedo soltanto che qui ci sono scritte delle cose in grassetto, diciamo. Se adesso io faccio un'altra pagina, in questo caso l'ho chiamata prova, dentro questa pagina c'è scritto la popolazione di Berlino conta e poi c'è mostrami di Berlino la popolazione, vedete? Oppure show Berlino superficie. Allora, quando andate a vedere, qua dentro lui vi dice che la popolazione di Berlino conta 4.429.847 abitanti e ho una superficie di 892 km2. Quindi, fondamentalmente, sto mescolando il testo con delle proprietà che poi posso utilizzare. Questo è un altro esempio. Qui ci sono una serie di dettami che abbiamo fatto qualche tempo fa di buone regole per portare avanti la governance informatica. Queste sono tutte pagine all'interno delle quali ci sono delle proprietà che poi io riesco a leggere. Se vado a vedere questa pagina qui, se ne visualizzo il sorgente, c'è solo questo. è una query che dice, fammi vedere della categoria e tavole della legge, l'id, il titolo, l'abstrat, la tipologia sortato per il d con ordine ascendente. E il risultato è questo. Allora, io non è che voglio farvi un corso su guidi semantico oggi, vi voglio dire che questo è uno strumento estremamente potente. Io, per esempio, come lo uso? Lo uso mettendo dentro delle pagine che mi fanno da cappello di un argomento e che magari linkano dei fogli Excel che stanno dentro SharePoint, dei documenti che stanno dentro Internet, eccetera. mi fanno da raccoglitori di informazioni. Cercheremo di fare un approfondimento sui vari strumenti che possiamo usare. Questo è sicuramente uno degli strumenti potenti che possiamo usare. Altri esempi di cattiva metodologia e di possibilità di migliorare. Da noi è classico raccogliere informazioni mandando dei fogli Excel. Allora, fino a che si sta parlando di uno o due persone va bene. mando un foglio e poi mi tornano indietro le informazioni raccolte da queste persone. Se le persone sono più di due, un modo molto semplice è prendo lo stesso foglio Excel, lo metto dentro un team site, lo SharePoint, e dopodiché dico alle persone questo è il link, andate a riempirlo. Questo che vantaggi ha? Che mi troverò un foglio con tutte le informazioni. Che svantaggi ha? Che se entro io non può entrare contemporaneamente un altro. Sopra le dieci persone la cosa migliore da fare è prendere il foglio Excel e trasformarlo, importarlo dentro lo SharePoint facendo in modo che diventi una lista. A quel punto io ho un foglio che è trasformato in un foglio SharePoint dove ognuno può mettere le informazioni e c'è un lock a livello di riga. Quindi, se ci intervengo io, ci può intervenire contemporaneamente un altro, purché si stia lavorando su righe diverse. Tenete conto, il nuovo SharePoint 2013 vi consentirà di prendere il foglio Excel, portarlo su così com'è e avere un foglio condivisibile a livello di cella, con il lock a livello di cella. Quindi, se non lavoriamo sulla stessa cella, ognuno può lavorare per conto suo. Ma già nella versione 2007 che abbiamo ora, è estremamente semplice fare un lavoro di questo genere. L'esempio chiedo commenti a n persone, eccetera. Devo usare uno strumento di collaboration, un news group, un social network. Voi vedrete che già oggi in SharePoint esistono strumenti di questo genere, ma stiamo andando avanti anche e avremo Yammer, avremo strumenti nuovi che sono adattissimi a fare questo mestiere e evitano il proliferare delle mail. L'argomento di oggi dice, guardiamo un po' anche avanti, verso l'orizzonte, che cosa ci arriverà a breve con i nuovi strumenti che stanno emergendo. Fino a poco tempo fa, quando parlavamo di intelligenza artificiale, la gente sorrideva, perché abbiamo passato tanti anni a dire, guarda cosa siamo riusciti a fare, e poi a dirsi, ma in fondo questa cosa che abbiamo fatto non vale un granché. Pensate anche alla vittoria su Kasparov, della macchina che gioca a scacchi, cioè tutte le volte si è detto, questo è intelligente, e poi si è detto, sì, ma che ci se ne fa, questo non è intelligente. Ora, da due o tre anni a questa parte la cosa sta cambiando radicalmente. Perché? Ci sono almeno tre ragioni perché sta cambiando. La prima ragione è che le macchine stanno diventando veramente molto potenti. Parlo di metà della scacchiera, cosa voglio dire? Voglio dire che esiste una legge empirica nell'informatica, è la legge di Moore, che dice che mediamente ogni 18 mesi raddoppia la potenza elaborativa dei computer. Ora, questo a me fa venire in mente l'invenzione degli scacchi, perché c'è quella leggenda dove l'imperatore della scina vuole ringraziare l'inventore della scacchiera, lo invita a palazzo e gli dice, ma te cosa vuoi? E lui gli dice, guarda, una cosa molto semplice, io voglio che te nel primo riquadro della scacchiera ci metti un chicco di riso, nel secondo due, nel terzo quarto, quarto, quattro, nel quarto, otto e così via, cioè raddoppi tutte le volte, questo somiglia alla legge di Moore, in qualche modo. Quando arriva a metà della scacchiera, l'imperatore taglia la testa al suddito, perché si accorge e l'ha preso in giro, nel senso che da quel momento in poi i chicchi di riso non ci stanno più dentro il palazzo. Ecco, noi stiamo cominciando a oltrepassare la metà della scacchiera, quindi ora quando raddoppia la potenza elaborativa, raddoppia di tanto. L'altra cosa molto importante è che abbiamo applicazioni di intelligenza artificiale che imparano dagli esempi. Mentre una volta le applicazioni di intelligenza artificiale andavano programmate, ci voleva uno specialista che descrivesse la realtà, e questo era un freno spaventoso, perché oltretutto la realtà è dinamica, cambia, e quindi continuamente qualcuno doveva aggiustarle, e in realtà quei programmi funzionavano, ma funzionavano per breve tempo poi, i classici sistemi esperti per esempio, eccetera. Oggi abbiamo degli strumenti che imparano automaticamente dagli esempi. Il terzo fatto è che abbiamo una disponibilità di esempi spaventosa. Cioè su internet oggi abbiamo esempi di qualsiasi genere. Tenete conto che oggi siamo arrivati con questo tipo di oggetti a classificare e a annotare automaticamente immagini che stanno su internet. e l'annotatore ha cominciato Google un paio d'anni fa dicendo che arrivava a una precisione dell'85% e Microsoft ha annunciato qualche settimana fa di arrivare a una precisione del 95%, che è maggiore di quella di un uomo praticamente. Quindi vuol dire che questi oggetti guardano un'immagine e riescono a dire che in questa immagine c'è un cane, il cane è un laborator, in questa immagine c'è un signore che sta pescando, e riescono a commentarla a questo livello. E questo non gliel'ha insegnato nessuno. Quali sono le tecnologie e che cosa descriveremo negli interventi successivi? Allora, una tecnologia importante è quella degli assistenti personali. Noi oggi abbiamo già una forma di assistente personale molto embrionale a disposizione di tutti, che è quella che leva la spam dalla mail, per esempio. Il problema è che il resto è altrettanto deleterio e non è più spam, e ci tocca anche leggerlo. Ecco, questi assistenti personali che stanno emergendo, voi tutti ormai conoscono Siri, forse non tutti conoscono Cortana, che è quello che sta per uscire con Windows 10 dalla Microsoft, sono tutta una serie di oggetti che vi spieranno dalla mattina alla sera, che impareranno i vostri comportamenti, e che faranno certe cose in modo automatico, o vi suggeriranno in modo automatico certe cose. Oggi esistono strumenti che sono capaci di dire guarda queste 5 mail, perché queste sono quelle che ti interessano, e il resto guardalo con calma. L'altro gran intervento di Roberto Basili, Amedeo Cesta, quindi vi parla di assistenti personali, e vi spiega un po' la storia di queste cose, imparare dai documenti è qualcosa che vi fa vedere Roberto Basili, dove vi fa vedere che ci sono tecniche che cominciano a capire i concetti che stanno dentro i documenti, e cominciano a classificarli in modo automatico. Il terzo intervento, non siamo riusciti a farlo oggi, lo recupereremo, è un intervento di Marco Gori, discutendo con Marco Gori, lui mi ha detto che sta facendo una ricerca dove dimostra che da qualche anno a questa parte il maggiore utilizzo informatico dentro le aziende, dentro la pubblica amministrazione, sta portando di fatto a un aumento della burocrazia. Cioè, mentre una volta questi strumenti, servivano a migliorare i processi, a ottimizzare, oggi in buona parte questi strumenti ci stiamo facendo del male, stanno aumentando la burocrazia. E anche questo credo sia sotto gli occhi di tutti, perché quando vi parlo di questa cosa, credo che la maggior parte di voi annuisca, pensando alle applicazioni che abbiamo messo in piedi in questo periodo, a quante ridondanze hanno, a quanto sono faraginose, a quanto sono difficili da portare avanti. E infine, parleremo di impatti ambientali, quel discorso del CO2 all'inizio, perché è una cosa di cui dobbiamo occuparci, perché è un problema, è una spesa che ci casca addosso, e quindi Fabrizio Riguzzi vi farà vedere che esistono impatti, anche positivi, nel senso che, per esempio, le macchine che guidano da sole, o questi strumenti sempre più autonomi, potrebbero essere usati anche in termini positivi, in modo da abbattere quelle che possono essere degli impatti ambientali grossi. grazie a tutti,